Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video. Oggi parliamo un po' di Ghost from the Past, The Second Haunting. Quella che non credo farò io, perché vabbè non dipende dalle carte che ci saranno. Allora, oggi siamo qui per parlare di questo perché è una cartina interessante che potrebbe farci pensare a una possibile reprint di una carta che molti vorrebbero. Prima di iniziare, come sempre, mi invito a iscrivervi al nostro canale e il basso del link social in descrizione. Grazie mille a tutti. Allora, vi lascio anche il link di Fantasia Store con il codice sconto, ovviamente, Bazar 5 per preordinarlo, perché si è già in preorder, uscirà il 5 maggio. Ricordiamo che il box conterrà, invece di tre pacchetti, conterrà quattro. Il pool dovrebbe essere migliore e ci sono più Ghost. Ora, andiamo a vedere la carta e poi facciamo un piccolo recapino di quello che c'era qui dentro, che l'ho presentato fino adesso. Ma, la carta Ghost, che mi ha fatto dire, beh, però, forse ci potrebbe essere una certa slime, è The Winged Dragon of Ra Sphere Mode. La pallina dirà che potremmo trovare Ghost. Allora, carta A molto buona, l'unica cosa brutta è che l'ho poteva avere per forza tre mostri, quindi magari diventa situazionale, però comunque è una delle carte migliori per togliere le carte all'avversario. La cosa che mi ha fatto pensare è stata, allora, c'è la sfera di là, ristamperanno anche l'Egyptian God Slime, quel Obelisk che vorrebbero tutti, quella carta fusione che vorrebbero tutti quanti. Non lo sai che potrebbe anche essere, perché comunque c'è scritto che ci sono anche dei supporti, carte che utilizza Maric nel set. Ora, non so se è riferito soltanto alla sfera di là, però io in realtà vedrei più la slime qui dentro che nel Megateen, perché nel Megateen, ok, che fanno parte le divinità egizie, ma molto spesso nel Megateen ci sono le carte dei set, le carte migliori dei set, gli archetipi che vorremmo un po' tutti, la ristampa a dialogo che vorrebbero tutti, e poi qualche import delle ultime, tra virgolette, espansioni che escono in Giappone. Come è stato con le tot carte Mago Nero e Drago Bianco nell'ultimo periodo, che erano uscite praticamente in Giappone due giorni prima dell'uscita del Teen, più o meno, quindi ci saranno degli import come quelli, magari ci saranno anche altri, però io la Egyptian God Slime la vedo più qui che nel Megateen. Poi può darsi che sbaglio, può darsi che sarà lì, oppure non ce l'avremmo per nulla, perché entrambe possono essere, possono essere, io comunque voglio sapere una vostra opinione, se secondo voi potrà essere inserita o qui, o magari lì. Secondo me qui ci potrebbe stare, io sono curioso, secondo me ci sarà anche, non so, c'ho questa cosa che secondo me ci sarà pure Nibiru, e il mazzo, e il mazzo di The Argent, che è uscito in Giappone, che non è uscito qui, non so, io ho questo presentimento. Poi vabbè, abbiamo il Drago Bianco Ghost, il Drago Finale Occhi Blu, ah c'è anche il Drago Finale Occhi Blu Ghost, carino. Sono carte completamente inutili, però sono carine, cioè è bello avercelo Ghost. Molto figo, non me ne ero accorto, invece di Ultimate Dragon avevo letto Alternative, quindi non è un periodo bellissimo per la mia testa. Poi c'è il Crystal Beast Rainbow Dragon, Cyber Dragon, Red Dragon Archive Find, Red Ice Black Dragon, il Drago dei Rocchi Rossi, e quando mai non c'è. Poi il Rainbow Dragon It's All, che è un grande import, e il Borderland Dragon, altro grande import. E per concludere il Dark Karma Dragon, praticamente sono tutte Ghost, tranne il Crystal Beast, il Decode e il Borderland, che avevamo già visto i mesi fa, quando l'avevano presentati. Bene, detto questo, avremo la ristampina della Sfera di Ra, io pensavo che fosse stata stampata Ultra, e invece Ghost, certo, se stampano la fusione slime Ghost è una presa per il culo, perché non mi puoi fare, aspetta, fammi vedere, perché ci stanno due carte per il Drago Bianco, una per il Mago Nero. Non vorrei che metterlo 2, 2, 2, 2, e per Mare che c'è la Sfera e la Gempa Tango slime, Ghost, spero di no. Vabbè, spero che sarà Ultra, se mai la ristamperanno. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo nel prossimo video, e un saluto a tutti. Grazie.